beh iniziamo dicendo buon natale a tutti perché infatti vedete maglione di natale della juventus dell'anno scorso era credo necessario per vedere nel migliore dei modi questa partita ve lo dico subito questa sarà la cosa più bella che vedrete di juventus rieca perché veramente se non l'avete vista ritenetevi fortunati se l'avete vista abbracciamoci forte amici miei perché abbiamo buttato via quasi due ore delle nostre vite bruttina è decisamente bruttina poi vabbè è ovvio che in questo momento loro interessa correre sudare faticare smaltire la cena di natale che hanno fatto l'altra sera dove hanno mangiato bevuto fumato fatto quello che dovevano fare e quindi dovevano sgrassare un pochettino anche perché comunque adesso ne faranno altre magari in famiglia come faremo tutti come farò io e come ho fatto anche ieri sera alla mia cena del calcio però insomma ragazzi insomma allora intanto juventus che riparte dal 3 5 2 nel primo tempo scriviamo la formazione con cesni in porta gatti riccio e uizen penso che si pronunci così nei tre difensivi sulle a tutta fascia a destra con costic a sinistra mckenny locatelli fagioli insieme a milica ken là davanti allora sulle a destra mi è piaciuto l'altra volta non mi era piaciuto a sinistra credo ancora che non sia il suo ruolo quello di esterno a tutta fascia penso proprio che non possa farlo però l'ho apprezzato decisamente di più perché perché lui viene molto dentro il campo e quindi l'altra volta a sinistra venendo dentro il campo faceva fatica invece partendo la destra si trova più il suo agio perché comunque è tipo di movimento che fa notoriamente anche quando parte dall'esterno giocando in attacco quindi mi è piaciuto decisamente di più credo che costice e sulle siano stati due migliori in campo nel primo tempo un primo tempo in cui comunque la juve rischi anche di andare sotto perché lì da dietro quando si parte con l'azione da dietro si è sbagliato tante volte molte in precisione nei passaggi nei difensori anche da parte di riccio proprio nell'uscita dal basso un'azione clamorosa in cui è stata completamente regalata la sfera agli avversari dove scesne salva una volta e poi vanno a salvare sulla linea volta mi pare locatelli e l'altra non mi ricordo neanche chi è stato forse gatti se probabilmente è stato gatti quindi c'è stato un un doppio salvataggio sulla riga dopo un errore in disimpegno da parte della juve con loro che non hanno fatto sto gol e loro comunque hanno sbagliato diverse occasioni perché ne hanno avute la juventus ha fatto creare gli avversari diverse occasioni ha ballato lì dietro certo una juventus sperimentale una juventus con pochi titolari una juventus con tanti giocatori fuori però è una juventus che in questo momento deve ritrovare la corsa il fiato i polmoni i muscoli a posto però sicuramente non è stata divertente da vedere quindi ritenetevi fortunati se non ve la siete vista fatevi raccontare dal sottoscritto un po' e magari leggetevi i commenti perché ragazzi come al solito sono sempre molto precisi nel completare quello che manca al mio racconto quindi gli esterni molto bene secondo me difese centrocampo così così Milik qualcosa di interessante l'ha fatto invece Ken aveva sbagliato qualsiasi cosa nel secondo tempo girandola di cambi credo che Allegri abbia usato una logica di questo tipo escono vabbè Scesni e Milik perché sono tornati da poco dal mondiale e quindi non avevano magari tutto il tempo necessario nelle gambe per fare altro quindi entrano per in e su leva a prendere la posizione là in alto al posto di Milik esce Kostic perché era un altro che è tornato dal mondiale così come McKennie al posto di Kostic entra Iling Junior che parlavamo l'altro giorno ha rinnovato il contratto ed è diventato ufficialmente un giocatore a prima squadra da Juventus e al posto di McKennie invece entra Miretti tra l'altro c'è un altro rinnovo di contratto ufficiale nel Juventus che è barbieri che è rinnovato fino al 2026 però è un rinnovo che per il momento non lo va a toccare lato prima squadra è un giocatore che rimane in orbita comunque next gen anche se oggi è entrato però in questo momento non viene visualizzato come giocatore prima squadra cosa che invece probabilmente è a che perché anche l'anno scorso l'abbiamo visto più di una volta entrare nelle rotazioni dei meccanismi è ritornato dopo l'infortunio al piede di questa estate nella tournée negli USA mi pare se dovrebbe essersi fatto male lì e quindi una sorta di vice quadrado all'interno della Juventus titolare per una squadra ce l'abbiamo quindi vediamo se poi torneremo sul mercato l'altro giorno vi parlavo dello scambio di Sciglio o Carsdor perché se stiamo parlando di vabbè però sono quelle cose che si possono incastrare a gennaio possono capitare che non si sistema niente si sistema tutto classici colpi di gennaio non credo che ci sarà un mese di gennaio come l'anno scorso con Blaubic, Zakaria, le cessioni di Kuluseski, Bentancur no penso proprio che quest'anno la Juve non farà una roba di questo tipo sono entrati anche diversi altri giocatori e infatti è stato divertente perché durante la live riuscivamo a iniziare a pronunciare correttamente o quasi correttamente alcuni nomi dei calciatori tipo Barrenecea è la prima volta che riesco a pronunciarlo spero che a Dazon abbiano pronunciato bene il nome perché ormai l'ho imparato così e quindi per me sarà sempre Barrenecea e poi sono entrati anche Bangula che è un nome sempre esotico e divertente e Nongevoende che è un altro nome che abbiamo imparato a pronunciare sono ragazzi che comunque avevamo già visto convocati anche con l'Arsenal Juventus che queste due amichevoli si le vince tutte e due se devo dire di essermi divertito vi dico una bugia perché quella con l'Arsenal è stata un'agonia incredibile infatti poi il giorno dopo la finale mondiale sembrava una roba completamente diversa sembrava una follia potesse essere lo stesso sport quella di oggi mi aspettavo in realtà che si potesse fare un po' di più invece vinciamo 1-0 con un gol di Moise Ken un gol che non so se l'avete visto vi sarà venuto da ridere perché almeno a me è venuto da ridere i ragazzi in chat prima hanno riso anche loro perché Ken comunque sbaglia il gol la palla si impenna e Ken si ritrova lì davanti alla porta vuota praticamente sulla riga deve solo toccarla di ginocchio e fa questo gol dopo aver sbagliato il primo pallone tirato quindi sicuramente non è stata un amichevole spettacolare io speravo ho detto dai giochiamo contro comunque una squadra croata che non è nemmeno messa benissimo nel campionato è vero che è un amichevole quindi non andranno alla morte sicuramente non è quello che interessa non è quello che importa non è quello che cercano però sono lì e nel mentre che sono lì cosa fanno non si divertono magari contro una squadra di questo tipo invece no siamo riusciti a fargli sembrare anche una squadra discreta quasi alla pari della Juve perché poi anche loro fino all'ultimo secondo hanno provato a pareggiare poi si è una squadra probabilmente con dei limiti non sono riusciti a trovare il gol però oggi la Juve è stata tutt'altro che resistibile tra giocatori infortunati tra giocatori non pronti fisicamente tra giocatori giovani che giocano in altre categorie tra tutta una serie di cose sicuramente non è stata una Juve irresistibile non è l'ultimo appuntamento del 2022 è l'ultimo appuntamento prima di Natale ci rivedremo sempre all'Allianza Stadium un vuoto che sembrava ti faceva ricordare un po' il periodo Covid quindi non ricordi proprio piacevoli ci troveremo si troveranno io non ci sarò il 30 di dicembre per effettivamente l'ultimo appuntamento del 2022 l'ultimo test anche prima di ritornare in campo ufficialmente incontro a Cremonese il 4 di gennaio dove probabilmente già nel prossimo test potremo recuperare spero Quadrado spero Chiesa spero anche i brasiliani che dovrebbero tornare dal mondiale dopo essere stati eliminati il mondiale è finito però i loro giorni di vacanza sono terminati e quindi sono pronti per ricominciare a correre con la Juve e quindi appuntamento contro lo standard 10 alle 14.30 ci guarderemo anche quelli live su Twitch con la speranza che possa essere una partita un po' più bella, divertente e pimpante perché le ultime due amichevoli che ci siamo guardati veramente sono stati più sbadigli che altro